Presso Palazzo Salerno è stato siglato un importante protocollo di intesa per promuovere e rafforzare sinergie volte al contrasto della dispersione scolastica e favorire l'integrazione e l'inclusione sociale. L'accordo è stato siglato tra il Comando delle Forze Armate Operative Sud, la Regione Campania, l'Arcidiocesi di Napoli e la Fondazione Pontificia Scolas Occurrentes. Sono intervenuti tra gli altri il generale di Corpo d'Armata Rosario Castellano e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Fare formazione, dare opportunità di sviluppo culturale ed educativo e in modo da dare questa possibilità ai giovani di riscattarsi, di provare a sviluppare delle competenze sia sportive che educazionali, quindi anche sottrarsi nei casi poi limiti anche a quello che è il riclutamento della criminalità. Quindi questo è il primo passo, cioè basato sulla educazione, sulla formazione per curare il futuro dei nostri giovani. Grazie a tutti.